Oggi 10 maggio siamo ritornati nella valle del Mish, qui dove 10 giorni fa c'è stato il presidio, dove hanno partecipato oltre 200 persone per manifestare contro quest'opera disastrosa che vogliono fare, però come vediamo non è stato sortito nessun effetto, ci sono gli scavatori che stanno lavorando nell'alveo del fiume, l'hanno già modificato, stanno scavando. Grazie.